salve a tutti ragazzi oggi siamo di nuovo su the evil weeding e dobbiamo fare l'inizio del capitolo 4 il paziente così il paziente che poi non ha avuto pazienza perché se n'è andata se n'è scappata bene bene ma dopo assi siamo usciti dal villaggio il centro già leslie era recuperato qui anni fa sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro lei sa dove siamo questo centro è gestito da mio fratello ci farà entrare non ha risposto alla domanda in realtà non lo so forse sto diventando pazzo lei non esiste nemmeno ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità e il dovere di proteggere un paziente lei è la legge vale lo stesso per lei che cavolo abbiamo che suo fratello non sia così beh allora siamo arrivati in una specie di clinica quanto pare vabbè teniamoci armati col fucile a pompone e abbiamo pochi colpi delle robe che forse il caso di essi è il caso di fare qualche colpa prepara prepara cambiare non si può più prepara ok fermiamoci con la balestra dai sentite questo rumore sì il salvataggio apriti è qua è qua è qua la capanna del salvataggio oh colpi di pistola grazie si è lei è lei uh ma qua si riempie di schifezza o no vabbè le foglie vabbè entriamo nella nostra clinica malata ecco lo sapevo lo sapevo qua si va sempre per salvare forte questa cosa con la lanterna in mano che è qualche cosa strana queste celle sono chiuse sempre chiuse che cosa le succede ciao posso salvare ok eeeh salviamo sempre qua beh ok apri qua visto che abbiamo i punti mi devo ricordare di non potenziare le abilità perché voglio fare il gioco senza potenziare le abilità che sta il trofeo mi sembra abilità no quindi proviamo le armi e proviamo a fare vediamo capacità del caricatore ah qua bisogna cambiare arma velocità di ricarica portata 2000 punti velocità di ricarica tempo di ricarica portata aumentiamo la portata di 2000 2000 punti madonna quelle scariche elettriche gli fanno la bura allora capacità del caricatore 4 tempo di ricarica cadenza di tiro riduce l'intervallo per il corpo per aumentare la cadenza la potenza di fuoco ma è già abbastanza forte il danno critico oh il danno critico 3000 mo facciamolo grazie la riserva le munizioni quando ne possiamo portare i fiammiferi più i fiammiferi no i dardi no comprare i dardi mo no capacità del caricatore la precisione meh mi servirebbe ok abbiamo speso tutti i punti ahia la testa beh la sedia elettrica dalla maledizione bene qua che cosa sta qualche cosa no andiamo nel video scorso non avevo notato che su un ceppo stava un'ascia che non ho preso ero curioso dovevo vedere che cavolo faccio vabbè eccola sta qua manco il tempo di dirlo comunque si possono usare le armi anche per il combattimento corpo a corpo facendo col fusile chi è madonna se ne è scappato ha visto qualcuno quel malato se ne scappa dappertutto dalla casa è entrato meh cos'è bottiglie il fuoco i luoghi che si vistono in questo passo sono inquietanti ma mi piacciono vediamo buono ricarica sette colpi di pistole fiammi trappale ci sono qua beh alcuni quadri vada più piano sto qua ma che cavolo dice quel coglione qua per nascondersi da cosa è sceso laggiù ma chissà perché questo posto io me lo ricordo non è che l'ho visto in qualche video mamma mia non c'è tempo da perdere la la luce c'è da solo se è acceso ok che cazzo quindi qua sta una porta e qua sta un corridoio vediamo cos'è un ballettone un ballettone per il fucile a pompone qua che sta un dardo buono ho visto tutto andiamo una scappata veloce un'altra scappata veloce non è che mi posso drogare vediamo fatemi fatemi controllare seringhe c'ho io si che sceglierò le metto sotto al posto della bomba a mano oh mi sono drogato bene apriti sesamo oh scusa con questo ciccio velo sei altri sei colpi che cos'è questo posto madonna oh grazie il dottor di me è qui una dottore un attimo sta arrivando qualcuno oh no qualcosa qui stai caldo che cazzo è ma che cazzo che cavolo è da dove è venuto sto stai è invisibile il bastardo figlio di puttana figlio di puttana oh oh ma è possibile che oh è invisibile questo posto è una trappola esisterà un posto sicuro purtroppo ne dubito mamma mia dobbiamo andare per di qua ecco perché non lo vedevo sembra una specie di non mi viene molto il nome di quel cattivo che sta in pirati dei caraibi comunque avete capito quello là il polipo davy jones com'è che si chiama che schifo sono pure invisibili cioè uno deve proprio con un colpo si muore alla difficoltà più difficile come cazzo si fa che 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 le scale sono sparite mamma mia forse siamo impazziti tutti quanti impazziti tutti impazziti tutti impazziti tutti impazziti tutti impazziti tutti ma che cavolo eh dove diavolo sono mamma mia si sente un effetto strano ragazzi ma che picca no no sti giochi non mi piacciono no che cazzo è eh eh che diavolo succede dove cavolo sono ma iniziano a stare cose strane un dardo uh qui non avevo visto che sta un filo di una trappola no 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 ok ti ho fregato sono stato un genio cosa fa questa leva cosa fa ah spara da sopra due colpi con la porta ah là c'è una mina là c'è una brutta mina vediamo qua esci pure dalla cacca esci fuori dalla cacca si questo posto è è molto strano non riesco a capire dove si va sopra sotto destra quale quale è un marile di esplosivo no 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 allo questo si si disattivano in questa line meno male che non è esploso oh ce l'ho fatta ok e cade e cade e cioè tu non sai che significa la parola saltare giustamente lui è un po' coglione ragazzi non conosce le cose basilari vabbè quel barile là che vogliamo fare ci vogliamo suicidare non lo so oh oh aspetta aspetta serve a qualche cosa se sta se mi fa cadere quel barile vuol dire perché siamo ritornati qua cioè io mi metto a bruciare i materassi ma che cavolo a che serve bruciare i materassi colpi di pistola eh e a che serve il cadavere là gli enigmi enigmatici se tiro di nuovo la leva che succede ah un braccino e se la tiro per la testa a volte un altro ma sono vivi o morti finiti non mi dai più i cadaveri sei cattivo quindi mi ha dato tre cose tre due cadaveri spero che siano morti sti così allora vediamo non è che avrebbe non ha molto senso se mi dai i cadaveri però poi io che ne faccio c'è li brucio non ho capito cosa serve ah bastardo ti ho visto aspetta perché non mi ha fatto fare ecco qua fregato che sono altri dardi quanti dardi quella bomba laggiù la andiamo a sistemare adesso no fatto prendi e va bene oh eh che cazzo ma che cavolo ma che cavolo cosa mannaggia la puttana di tua madre hai fatto risuscitare quei morti di merda da dove cazzo stavano stavano così bene sdraiati allora aspetta un attimo e prenditi stavano sei dai dai allora io ho sentito un amico mio che se si bruciano i cadaveri si possono fare le multi kill e devo vedere che significa no alzati 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 allora il problema è aspetta questo viene di qua vengono di qua i due bastardoni quindi questo lo si dai ma in culo a tua madre si aspetto che arrivi uno due no no non sei caduto pezzo di merda facevi la finta facevi prenditi questa cosa si brucia pezzo di cacca ciccione oh e tu invece zappatore del cazzo oh ah immaginavo che bisogna ucciderli tutti per sbloccare la porta però datemi una siringa datemi una droga datemi la droga avete capito quindi mi hanno fatto lo scherzo sti bastardi mi hanno fatto lo scherzo i cadaveri servivano perché se per caso passavano di lì vicino gli zombie che camminavano si bruciavano ecco cosa serviva va bene recuperiamo un po' perché bisogna stare fermi ecco vedete se si sta fermi si recupera la cavolo dalla vita il minimo ehi questo mi è familiare ma questo è il è il meno principale questo aspetta e qua cosa sta è chiusa è bloccata no ok valettoni sempre meglio averli ah no questi sono i colpi di pistole fammi prenderne altri si grazie si questo è proprio il menu principale madonna che cazzo è sta cosa di merda pezza di merda no 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 che che cosa è chiuso madò eh madò 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 cos'è sta cosa dove destra sinistra di qua di qua di qua di qua non guardare dietro non guardare dietro non guardare dietro brucia brucia nell'inferno no 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 pezzo di merda mi ha ammazzato che schifezza in mane che è che cavolo è una donna una donna ragno una pezza di merda una puttana che non tiene un cazzo da fare della mattina alla sei che andrà a spaventare le persone che tra l'altro non mi ha fatto nemmeno tanta paura però certo che ti metto un po' dove sto andando aspetta e beh l'ho chiusa dietro no che fai 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 nasconditi ti devi nascondi nasconditi e ho visto visto scendi 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 ok beh pezzo di merda scappa 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 oh mio te ho la pezza di cacca proprio andiamocene 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 l'ascensore 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 oh perfetto che cazzo che cazzo eh ah ah aiuta 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 la puttana stava eh cosa eh come cazzo si fanno una puttana porto cavolo oh ma se per un pelo bastarda in culo te la devi mettere quel vitone grosso che ha ecco il ballettone un ballettone proprio toni 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 vediamo che sta qua giù madonna pezzo di merda che che questo livello altro che il paziente ti fa perdere la pazienza te la fa perdere cioè che devo fare contro quel bastardo ti ammazzo con un colpo boh io non lo so che cazzo devi fare se ti ammazzo oh madonna beh no e sta salendo sta salendo che cavolo eh madonna madonna cos'è sta basta se vabbè mo se trova che che no stai storto stai bene ma che capo è finito il capitolo mamma mia che capitolo strano non si capisce io sono caduto e poi mi sono rialzato vabbè e finisce qua questo video ragazzi così è l'estrato l'estrato l'estrata Grazie a tutti.